e adesso vediamo uno degli oggetti che mi ha accompagnato sapete per me è immancabile irrinunciabile inseparabile la torcia nelle dc questa è la vben l50 una torcia ricaricabile con un led di tipo p9 una torcia economica semplice però sempre realizzata da vben quindi abbiamo un'ottima struttura abbiamo alluminio aeronautico è un riflettore meraviglioso 1200 lumens massimi per un'autonomia di 143 ore a livello più basso vede come il progetto è semplice e quindi magari rispetto alla ricercatezza del design delle soluzioni di una e 7 siamo su un progetto davvero molto più semplice però fa quello che deve a 5 modalità alta media bassa eco che sarebbe la moonlight la più tranquilla e anche una sos che dovrebbe attivarsi in questo modo non si sa mai quando può servire una sos l'interfaccia è semplicissima con un pulsante sulla coda pulsante che tra l'altro è protetto da una guardia e funziona anche come selettore se io premo gentilmente sul pulsante vedete come cambio la mia selezione è una doccia che ha anche la sua bella gittata quindi ha un proiettore che va in profondità ci permette anche di osservare molto attentamente l'ambiente ed è dotata di un laccetto di sicurezza che si aggancia sulla guardia posteriore del pulsante la ricarica è evidente si trova in questa zona usb c cavetto incluso nella confezione vi basta semplicemente collegarla anche ad un power bank e si ricaricherà senza problemi sempre sulla coda diciamo un indicatore led per livello di carica della batteria quando si decide di acquistare una torcia economica oggigiorno uno può essere preoccupato del fatto che non ha tutte quelle dotazioni tecnologiche di sicurezza come la protezione da sovraccarichi elettrici invece vben anche nei progetti più piccoli anche nelle torce più semplici inserisce tutte le caratteristiche di sicurezza come la molla della batteria placata in oro questo consente di evitare l'ossidazione e garantisce una lunga durata nella nostra nuova torcetta clip da cintura robusta questa è una torcia che sta bene in tasca e devo dire che date le dimensioni e dato il materiale di costruzione non è una torcia studiata per essere impiegata in situazioni di difesa ma ragazzi se deve farlo il suo lo fa resiste a cadute da un metro e mezzo e da una resa molto solida in mano se provate a tenerla in mano non vi deluderà non sentirete mai quella sensazione di torcetta da due soldi questo è un progetto economico semplicemente per il fatto che oggi è possibile realizzare torce di qualità con un budget ridotto tra l'altro potrebbe diventare la l50 anche una torcia da tenere in caso di emergenza in automobile o in un kit o in uno zaino quindi se come me preferite avere a disposizione diverse torce in diversi luoghi non è detto che uno poi debba comprare tutte torce all'altissimo livello si può indirizzare la scelta su una torcia budget come l50 avere un'ottima torcia da lasciare per esempio in macchina in un corridoio dietro una porta eccetera eccetera per questo la consiglio un po a chiunque a tutti quelli che vogliono un'ottima torcia edc senza spendere una fortuna quindi che faccia una buona luce che abbia un buon sistema di funzionamento un'ottima durata una buona batteria un buon led e una buona elettronica Wubben non ci ha mai delusi e la consiglio anche a chi sta preparando zaini per le emergenze kit vari perché una torcia di buona qualità bisogna sempre averla e non è detto che sia necessario spendere una fortuna per ottenerla se ti piacciono le torce non puoi mancare alle nostre live di light pacco dai un'occhiata a quelle disponibili in archivio sul canale youtube di back pacco te le lascio qui sotto in descrizione e per sapere quando ci saranno le prossime visita la pagina live.backpacko.it intanto ti rimando a tutta la nostra collezione di torce Wubben e di altri marchi su back pacco ma ci vediamo in giro anche sugli altri social